ciao ragazzi ciao io sono valentino favotto io sono un pianista tastierista compositore orchestratore arrangiatore sono una figura molto poliedrica collaboro con diversi artisti del panorama musicale italiano internazionale e sono molto contento oggi di farvi compagnia con questa nuova rubrica che si chiama casio lessons from the living room oggi sono qui per condividere con voi la mia esperienza di didatta e parlarvi di uno degli strumenti più difficili da usare per chi inizia ad approcciarsi allo studio della musica ed è appunto il famigerato metronomo ora perché il metronomo beh devo dire che il fatto che questo strumento in qualche maniera vi limiti nella vostra esecuzione perché vi incasella in una griglia questa cosa può assolutamente mettere ansia ed è assolutamente comprensibile all'inizio la grande utilità del metronomo non è tanto il fatto che vi faccia andare a tempo ma sta nel fatto che vi abitua a relazionare quello che voi state suonando con qualcosa di esterno a voi mi spiego meglio è come se lui fosse un secondo musicista che sta suonando insieme a voi e vi dice il tempo è questo qua innanzitutto è un musicista che non vi giudica ma vi dice semplicemente qual è la cosa più giusta da fare quando voi studiate chiaramente l'aspetto tempo e devo dire che questa capacità di sganciare la vostra attenzione da quello che voi state suonando in quel momento e percepirla che state lavorando insieme con qualcun altro questo tipo di percezione va molto sviluppata perché nel momento in cui vi trovate nella vita vera a suonare insieme con altri musicisti se voi siete abituati ad ascoltare non solo voi stessi ma soprattutto quello che vi sta intorno e a relazionarvi con esso questa cosa vi permetterà di suonare meglio quando avete a che fare soprattutto con musicisti che hanno più esperienza di voi e viceversa quando vi trovate a suonare con musicisti che hanno meno esperienza riuscirete a capire subito dove sono i problemi e a metterli a posto altra grande utilità ovviamente sta nel fatto che grazie al metronomo voi potete tenere un registro della vostra abilità nell'esecuzione di un determinato studio un determinato passaggio per cui giorno dopo giorno potete dire oggi sono arrivato ad eseguire quella cosa lì a 70 poi il giorno dopo 80 eccetera oppure voglio arrivare a eseguirlo per la fine per fine settimana a un tot di tempo e questa cosa è molto importante per riuscire a studiare in maniera ottimale un altro beneficio importante che avete grazie allo studio col metronomo è nel fatto di sviluppare la vostra immaginazione ritmica mi spiego quando voi studiate ad esempio nel caso dei pianisti appunto insieme con un loop di batteria giusto per gratificare la vostra esecuzione chiaramente avete già tutto il pacchetto di suddivisioni ritmiche mentre se voi ascoltate semplicemente un metronomo sfrutto quello del pix lo ascoltate semplicemente e provate ad immaginare le suddivisioni che stanno in mezzo a questi colpi anche pensare semplicemente a suddivisioni binarie eternarie o quaternarie ad esempio solo immaginare vi ricordo che l'immaginazione è più forte della vostra esecuzione fisica perché tutto quello che noi andiamo a fare a livello esecutivo dovrebbe essere sempre il prodotto di un pensiero musicale questo vuol dire che più che allenare le dita devo allenare la mente quindi se voi prendete semplicemente il metronomo e lo ascoltate immaginando le suddivisioni questa cosa è molto più importante per sviluppare la capacità di tenere il tempo pensate ad esempio quando andate ad eseguire i tempi lenti tempi lenti per loro natura esigono un bpm lento per cui come faccio a tenere questo 40 di metronomo se devo suonarlo dal vivo e chiaramente non avrò il metronomo lo andrò ad eseguire pensando a maggior suddivisioni possibili perché il tempo lento percepire soltanto i singoli colpi vi dà adito a un grande margine di errore mentre se voi pensate a una cosa che potete tenere tranquillamente ritmicamente se voi pensate alle suddivisioni dentro ai vostri click questa cosa vi permette di essere più precisi ritmicamente quando andate chiaramente a suonare ovviamente il metronomo è uno strumento ma non va neanche abusato per quanto possibile ogni tanto bisogna sganciarsi togliere questa stampella e provare a ascoltare quello che noi stiamo suonando sia nel momento in cui stiamo suonando ma in fase di pratica registrarci e sentire e chiederci stiamo andando a tempo o non stiamo andando a tempo e quindi chiaramente non va bene abusare troppo del metronomo perché il metronomo è così difficile da usare soprattutto all'inizio è difficile perché ovviamente noi ci sentiamo ingabbiati in questa griglia in questi tra questi colpi e questa sensazione ci provoca ansia e l'ansia è una delle cose che vi fregano di più quando andate a suonare perché poi succede questo strano fenomeno strano questo ovvio fenomeno non strano attacco il metronomo ecco quando io suono e inizio a suonare sapete che ogni attacco di nota ogni nota che vado a produrre chiaramente viene percepito dal mio orecchio come una cosa che deve essere fatta a tempo o dovrebbe essere in tempo anzi ci definisce un tempo questa cosa qua per cui cosa succede succede che se io devo suonare insieme a questi colpi cioè ta 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 e nella mia esecuzione per effetto dell'ansia inizio ad accelerare perché questo che vi fa fare l'ansia sostanzialmente inizio a suonare in avanti rispetto al metronomo il mio orecchio percepirà questo mio andare in avanti come un nuovo tempo per cui perderò subito la cognizione del tempo che mi dà il metronomo e in men che non si dica mi troverò girato o sicuramente strano rispetto al tempo per cui uno studio che vi consiglio di fare è proprio studiare questo effetto studiare il fatto che magari un tempo un pezzo magari tecnico soprattutto o anche molto semplice una roba tipo oppure uno studio dell'ano e di provare a oscillare sul tempo in questa maniera voi riuscite a controllare anche il vostro andamento del tempo che è molto importante perché non è un problema se per effetto della foga del suonare stiamo spingendo un po' il nostro il nostro timing la cosa importante è riuscire a rimanere sempre però nella nella zona giusta del tempo e riuscire a controllarsi quindi per cui uno studio che vi invito a fare questo provare a suonare sul tempo del metronomo provare ad accelerare provare a tornare indietro stare più indietro rispetto al metronomo e rimettervi in carreggiata sul metronomo stesso quindi oscillare ritmicamente su un tempo predefinito la consapevolezza di questo è molto importante perché vi permette appunto di rendervi conto subito quando state spingendo ritmicamente vi faccio un esempio con uno studio dell'anon per esempio mettiamo il metronomo a 120 eccolo qui gli studi dell'anon li conoscete spero e inizierò a suonare prima sul tempo poi spingo in avanti ritorno sto indietro e mi rimetto in carreggiata spingo avanti ritorno sto indietro e mi rimetto una cosa che trovo molto interessante fare col metronomo è questo succede in fase di studio quando voi un pezzo magari lo sapete già abbastanza bene ma volete praticarlo per cui dovete partire da un bpm lento e poi accelerare un po alla volta ecco uno degli utilizzi che faccio io è in questa fase di studio non tanto alzare bpm quanto alzare la velocità tenendo il metronomo sempre allo stesso tempo ma alzandolo come immaginando che il mio metronomo interno aumenti la velocità sfruttando le suddivisioni o le poliritmie all'interno del metronomo mi spiego meglio accendo un metronomo per esempio lento a 60 ecco inizio prima di tutto a suonare con questo metronomo poi per accelerare sfrutto ad esempio la poliritmia del 3 sul 2 per cui prendo due di questi colpi e ne faccio tre per cui metto una terzina e questo sarà il mio nuovo bpm poi inizio a pensare ad altre suddivisioni come ad esempio suddivisione binaria e poi tre e così via in questa maniera io aumento la velocità però ho sempre un metronomo che mi sta lavorando in maniera diversa per cui devo relazionare anche questo aspetto poliritmico dipende molto ovviamente dal pezzo che voi andate ad eseguire vi farò ora un esempio pratico di questa cosa qua sfruttando uno studio sinfonico di Schumann dove appunto applicherò questa cosa per cui inizierò mettendo il mio metronomo lento e inizierò quindi il mio studio lento così controllo la mia aderenza ai tasti le mie note eccetera eccetera dopodiché per accelerare penso alla poliritmia della terzina quindi tre colpi ogni due e così via suddivisione binaria ternaria che poi è quella propria del pezzo poi suddivisione in quattro per cui il mio nuovo metronomo sarà e questa cosa è molto interessante poliritmicamente con questo tipo di studio qui suddivisione in cinque one two three four five per poi arrivare alla doppia terzina o la sestina a seconda del pezzo che voi state facendo per cui one two three one two three one two three one two three eccetera eccetera bene con questo è tutto ah un consiglio che vi do quando lavorate col metronomo soprattutto all'inizio evitate il ciclo dei beat per cui se il vostro metronomo ha impostato quattro quarti sei ottavi eccetera toglietelo lasciate il metronomo nudo e crudo e lavorate così perché altrimenti specialmente all'inizio questa cosa può essere un po' frustrante perché state magari lavorando su un pezzo in quattro quarti e vi perdete dovete riprendere sbagliate la nota e dovete riprendere il ciclo è un po' un casino per cui se volete un consiglio eliminate questa cosa e tenete il metronomo così semplice col suo click nudo e crudo senza suddivisioni di beat bene con questo è tutto io vi saluto vi ringrazio vi ringrazio della vostra attenzione e del tempo che mi avete dedicato quindi da Valentino Favotto e dal Privia Pix S1000 un caro saluto ciao e arrivederci ai prossimi video e alle prossime lezioni ciao ciao